Capitolo 3. Un breve riposo. Quel giorno non cantarono né raccontarono storie, anche se il tempo era migliorato, e neanche l'indomani né il giorno successivo. Avevano cominciato a sentire che il pericolo non era lontano. Si accampavano sotto le stelle e i loro poni avevano da mangiare più di loro. C'era erba in abbondanza, infatti, ma nelle loro bisacce non c'era molto. Un mattino guadarono un fiume in un punto ampio e poco profondo, lì dove i sassi e spruzzi producevano un gran rumore. La riva opposta era scoscesa e sdrucciolevole. Quando arrivarono in cima, conducendo a mano i poni, videro che le grandi montagne erano ormai vicinissime. Subito pensarono che ormai ci volesse solo un giorno di viaggio per raggiungere i piedi di quella vetta più vicina. Anche se appariva scura e desolata, benché ci fossero chiazze di sole sui fianchi bruni e dietro ad essa lucicassero le sommità delle vette nevose. «È quella la montagna?» domandò Bilbo, con voce solenne e guardandola con occhi sbarrati. Non aveva mai visto una cosa così grande in vita sua. «Certo che no!» disse Balin. «Questo è solo l'inizio delle montagne nebbiose e bisogna che in qualche modo passiamo al di là, sopra o sotto di esse, prima di giungere nelle terre selvagge che stanno dietro. E c'è un bel po' di strada, anche dall'altra parte, fino alla montagna solitaria est, dove Smaug giace sul nostro tesoro.» «Oh!» disse Bilbo. E proprio in quel momento si sentì più stanco di quanto ricordasse d'essere mai stato. Pensò ancora una volta alla comoda poltrona davanti al caminetto nel suo soggiorno preferito. «Eh! E alla cuccuma che fischiava.» E non fu l'ultima volta a cui ci pensò. Adesso Gandalf procedeva avanti a tutti. «Non dobbiamo smarrire la strada, altrimenti siamo fritti», disse. «Abbiamo bisogno di cibo, tanto per cominciare, e di riposarci in un posto abbastanza sicuro. Inoltre è assolutamente necessario affrontare le montagne nebbiose sul sentiero giusto, altrimenti ci perdiamo e dobbiamo tornare indietro e ricominciare tutto da capo.» «Ammesso che si riesca a tornare indietro.» Gli chiesero dove si stesse dirigendo ed egli rispose «Siete arrivati proprio al confine delle terre selvagge. Come forse alcuni di voi già sanno, nascosta da queste parti, davanti a noi, c'è la bellissima valle di Gran Burrone, dove Herond vive nell'ultima casa accogliente.» «Gli ho inviato un messaggio tramite i miei amici e siamo attesi.» Parole al sai consolanti, ma ancora non erano arrivati fin là. E trovare l'ultima casa accogliente a ovest delle montagne non era una cosa così semplice. Pareva che non ci fosse un albero, valle o collina a interrompere il terreno. Solo un vasto pendio che saliva lentamente sempre più in alto fino ai piedi della montagna più vicina. Un ampio terreno color erica e roccia sgretolata, con macchie e radure d'erba e muschio che indicavano dove poteva esserci dell'acqua. Passò il mattino, giunse il pomeriggio, ma in tutto quel deserto silenzioso non c'era traccia di alcuna dimora. La loro ansia cresceva, perché adesso si rendevano conto che la casa poteva essere nascosta quasi dovunque tra le loro montagne. Giunsero sopra valli inattese, strette dai fianchi ripidi, che si aprivano improvvisamente ai loro piedi e guardarono giù, meravigliati di vedere alberi sotto di loro e corsi d'acqua sul fondo. C'erano canaloni che si potevano attraversare con quasi un salto, ma molto profondi e con molte cascate. C'erano precipizi scuri e che non si potevano attraversare né saltando né calandocisi dentro. C'erano acquitrini, alcuni verdi e piacevoli da guardare, con fiori che crescevano alti e dai colori vividi. Ma un pony che vi camminasse con una soma sul dorso non ne sarebbe più uscito fuori. Dal guado alle montagne si stendeva davvero un territorio molto più vasto di quanto si sarebbe mai potuto immaginare. Bilbo era stupefatto. L'unico sentiero era segnato da pietre bianche, alcune piccole e altre seminascoste dal muschio o dall'erica. Seguire la pista era tutto sommato una faccenda assai lenta, benché fossero guidati da Gandalf, che pareva orientarsi molto bene. La testa e la barba dello stregone si chinavano ora da una parte e ora dall'altra, mentre cercava le pietre ed essi seguivano le sue indicazioni. Ma quando il giorno cominciò a declinare non sembrava che si fossero avvicinati di molto alla fine della loro ricerca. L'ora del tè era trascorsa da tempo e sembrava che presto sarebbe toccata la stessa sorte anche a quella della cena. C'erano falene che svolazzavano tutto intorno e la luce si fece sempre più fioca, giacché la luna non si era ancora levata. Il pony di Bilbo cominciò a inciampare sopra radici e pietre. Arrivarono sull'orlo di un ripido dirupo. Così, all'improvviso, anche il cavallo di Gandalf quasi scivolò giù dal pendio. «Finalmente ci siamo!» gridò. E gli altri si affollarono intorno e si sporsero a guardare. In basso, lontano, videro una valle. Potevano udire la voce dell'acqua che scorreva rapida in un letto roccioso sul fondo. Nell'aria c'era il profumo degli alberi e c'era una luce sul versante al di là del fiume. Bilbo non avrebbe mai dimenticato il modo in cui sdrucciolarono e scivolarono all'imbrunire giù per il ripido sentiero serpeggiante fin dentro la valle segreta di Granburrone. L'aria diventava più calda man mano che scendevano e l'odore dei pini lo stordiva. Sicché, di tanto in tanto, la testa gli cadeva sul petto e lui quasi scivolava giù dalla sella o batteva il naso sul collo del cavallo. Il loro morale si risollevava man mano che scendevano in basso. Ora gli alberi erano faggi e querce e il crepuscolo infondeva una sensazione di serenità. L'ultimo verde era quasi svanito dall'erba, quando infine giunsero a una radura non lontana dalle sponde del ruscello. «Mmm, sento odore di elfi», pensò Bilbo. E guardò le stelle sopra di lui. Brillavano vivide e azzurre. Proprio allora esplose tra gli alberi una canzone simile ad una risata. «Cosa fate? Dove andate questi poni via ferrate? Ah ah ah, nella valle proprio qua! E cercate, a che mirate? Le fascine son bruciate, le focacce ben tostate? Ah ah ah! E così ridevano e cantavano tra le fronde degli alberi. So bene che le giudicherete graziose sciocchezze. Non che gliene importerebbe. Semplicemente riderebbero ancora di più. Erano elfi, ben inteso. Presto Bilbo poté dar loro qualche rapida occhiata mentre il buio si infittiva. Amava gli elfi, anche se li incontrava di rado, ma al tempo stesso ne aveva un po' paura. I nani poi non vanno molto d'accordo con loro. Anche i nani abbastanza per bene, come Thorin e i suoi amici, pensano che gli elfi siano degli sciocchi. E pensare a una cosa simile è da sciocchi. Oh, che sono irritanti, insomma. Il fatto è che alcuni elfi si burlano e ridono di loro, soprattutto della loro barba. «Bene, bene!» disse una voce. «Guarda un po'. Bilbo, lo hobbit a cavallo di un pony, niente meno. Che spettacolo! Davvero singolare, meraviglioso!» Poi si imbarcarono in un'altra canzone ridicola quanto quella che ho riportato per intero. Alla fine un giovane alto venne fuori dagli alberi e si inchinò di fronte a Gandalf e Thorin. «Benvenuti nella valle!» disse. «Grazie!» disse Thorin un po' bruscamente. Gandalf, invece, era già sceso di sella e chiacchierava piacevolmente con gli elfi stando in mezzo a loro. «Siete un po' fuori strada?» disse un elfo. «Vi mostreremo la via giusta, ma fareste meglio ad andare a piedi finché non avrete attraversato il ponte. Volete fermarvi un po' a cantare con noi o volete continuare subito?» «Di là stanno preparando la cena» e aggiunse. «Sì, sento l'odore della legna messa ad ardere per preparare il cibo». Stanco com'era, a Bilbo sarebbe piaciuto fermarsi un poco. Il canto degli elfi a giugno sotto le stelle è qualcosa di imperdibile, a meno se si tiene a queste cose. Inoltre, gli sarebbe piaciuto scambiare qualche parola in privato con quella gente che sembrava conoscere il suo nome e sapere tutto di lui, anche se lui non l'aveva mai vista prima di allora. Pensava che la loro opinione sulla sua avventura potesse essere interessante. Gli elfi sanno un sacco di cose e sono straordinari per quanto riguarda le notizie. Vengono a sapere cosa succede tra le genti del paese con la velocità con cui scorre l'acqua e persino più rapidamente. Ma a quel punto i nani erano tutti in favore dell'idea di cenare più presto possibile e non vollero fermarsi. Si incamminarono tutti, conducendo i poni a mano, finché non furono condotti su un buon sentiero e infine proprio alla riva del fiume che scorreva veloce e rumoroso, come fanno i rivi montani nelle sere d'estate, quando il sole ha brillato tutto il giorno sulle alte e distanti cime nevose. C'era solo uno stretto ponte di pietra senza parapetto, così stretto che un poni poteva appena passarci sopra e sopra di esso dovettero passare lentamente e con attenzione l'uno dopo l'altro, ciascuno conducendo il suo poni per le briglie. Gli elfi avevano portato sulla riva alcune lanterne e cantarono un'allegra canzone mentre la compagnia attraversava.